Se lei vincesse le elezioni che avremo di qui a qualche settimana, qual è la responsabilità del nuovo sindaco di Venezia? Puteremo buoni questi controlli fatti dal magistrato Leacque all'epoca, che vediamo poi è stato coinvolto in tutta un'indagine importante, parliamo di corruzione, per importi non da poco. Guardi, allora intanto faccio gli scongiuri ovviamente, poi risponderei in duplice maniera. C'è un problema rilevante, di cui ne abbiamo parlato, ma insomma credo sia il momento di parlarne, che è quello dei costi della gestione della manutenzione del nuovo, perché quando anche dovesse entrare in funzione verso la metà del 2017, come si dice al Consorzio Venezia Nuova, si porrà un problema enorme di gestione e di manutenzione. Chi sarà responsabile della gestione della manutenzione? Sulla base di che cosa, di che norma, ci sarà una gara europea, confido di sì. E per quanto riguarda i costi, si parla di un ammontare all'incirca annuo tra i 25 e 35 milioni di euro. No, molto di più. Di più. Vabbè, io sono stato basso, diciamo. È un ottimista. Diciamo che mi tengo basso, ecco, facciamo 30 milioni di euro. Quanto diceva Amadori, mi scusi per avere delle cifre, o l'ingegnere, sentivo gli importi, quanto saranno, quanto è previsto? Io penso che qualsiasi opera di ingegneria di un certo rilievo abbia un costo di manutenzione che, volendo parlare così, grossolanamente, possiamo collocare fra l'1 e il 2%. Vabbè, ancora peggio. Bene, prego, la interrotta diceva. No, la situazione è ancora più preoccupante. Adeguerò nel prossimo intervento, inizio di dire, tra i 25 e i 35, i 35, i 35, i 50, i 50, i 50. Ma è preoccupante questa situazione, perché chi è che tira fuori questi soldi? Certamente l'amministrazione comunale no, ma anche se dovesse tirarli fuori lo Stato o un livello superiore, quello europeo, è un problema serio. Non è che il Mose e la gestione del Mose continuerà a mangiare le risorse della città, come è successo in questi ultimi anni. Questo non è accettabile. C'è un tessuto urbano estremamente delicato che va assolutamente curato. In secondo luogo, condivido quello che diceva l'ingegnere Dal Paus poco fa sull'Istituto Magistrata Leacque, istituzione. Va tutelato. Ci sono delle professionalità rilevantissime. Io ho avuto degli incontri con i dipendenti del Magistrata Leacque, anche del Consorzio Venezia Nuova, di Tetis, delle società che lavorano attorno. Sono di una professionalità elevatissima. Primo non le possiamo disperdere. E secondo sono fortemente preoccupati per il loro lavoro che sta saltando completamente. Allora, questo Magistrata Leacque, a mio modo di vedere, dovrebbe tornare ad essere, come all'epoca della Repubblica Serenissima, un organismo di controllo gestito al...